Oggi diamo il benvenuto al signor Stefano Masette della Masette di Borgo Valbelluno in provincia di Belluno. Buongiorno Stefano, a te la parola. Buongiorno, noi siamo un'azienda di trasporto nata nel 1971 dal fondatore Guido Masette che è mio papà e gestiamo l'azienda con lui e con mio fratello Massimo. Siamo un'azienda che svolge i trasporti sul nazionale Italia, qualcosa facciamo di estero ma poca roba. Abbiamo una flotta di 45 mezzi suddivisi su pilici e motrici e siamo clienti di TranspoBank dal lontano 1990 ancora quando veniva fornito il Minitel. Siamo ancora utenti TranspoBank e di conseguenza siamo anche utenti di tracker e localizzatore satellitare con cui ci troviamo bene. La banca dati ci serve soprattutto per le tratte di rientro e comunque ci siamo trovati bene negli anni a confronto mari di altre banche dati che abbiamo comunque provato perché comunque TranspoBank a livello nazionale per noi è il servizio che può essere quello che ci serve di più insomma. Se siete interessati anche voi alla piattaforma per i trasporti TranspoBank contattateci allo 02 20 57 11 oppure scriveteci sul sito www.transpobank.it